La San Marco Industrial del gruppo Scattolini, stabilimento metalmeccanico ad Atessa, lunedì ha annunciato ai sindacati 80 esuberi. Quali sono le posizioni dei tre sindacati FIM-FIOM e WILM? A Medeo Nanni, FIM-CISL, segreteria Abruzzo Molise, qui ci sono lavoratori che sono in cassa integrazione da diverse settimane. La nostra posizione come FIM-CISL è quella di affrontare le sfide della San Marco con responsabilità ma anche con determinazione. Dall'ultimo incontro sono emersi di nuovo tanti esuberi. Ciò era avvenuto già nel mese di marzo dove abbiamo sigrato un accordo con il Ministero e con la Regione per la cassa integrazione straordinaria. Pensavamo che con gli accordi fatti e con delle persone che sono uscite in maniera volontaria dallo stabilimento questi esuberi sarebbero ridotti. Invece purtroppo nell'ultimo incontro abbiamo dovuto capire dal nuovo amministratore che gli esuberi sono rimasti sempre 80. C'è un elemento aggiuntivo, negativo, che dobbiamo sottolineare ed è quello che da maggio, con molta probabilità, questi lavoratori che stanno da molti mesi fuori non percepiranno l'anticipo della cassa integrazione Covid. Questo dal nostro punto di vista è inaccettabile e faremo tutto quello che è il nostro possesso per cercare di far cambiare posizione all'azienda. Perché nel 2017, quando il gruppo Scattolini ha rilevato lo stabilimento, aveva detto che non avrebbe licenziato nessuno dei dipendenti e anzi avrebbe portato lavoro. Ricordiamo che nel 2017, quando il gruppo Scattolini rilevò lo stabilimento, ci fu un accordo sindacale dove i lavoratori in gran parte rinunciarono alla contrattazione del secondo livello. Quindi dando soldi allo stabilimento per l'acquisizione. Alfredo Fegatelli, segretario FIOM Chieti, ci sono diverse cose che lei non condivide come FIOM? Assolutamente sì, diciamo che nell'incontro che c'è stato c'è stato un episodio spiacevole dove l'azienda ci ha fatto ascoltare una registrazione di un lavoratore dicendo che queste registrazioni saranno oggetto poi di eventuali denunci nei confronti dei lavoratori. Questa cosa è una cosa per noi inaccettabile perché denuncia un clima non sereno all'interno dell'azienda e quindi siamo fortemente preoccupati. Inoltre riteniamo che l'azienda stia operando in modo non corretto dal punto di vista di alcune operazioni come per esempio quella di favorire l'esodo incentivato attraverso l'utilizzo della cassa integrazione come incentivo che per noi non è corretto. Una voce diversa è quella di Achille Di Sciullo, della Wilm, segreteria Chiesi Pescara. Sì, è una voce diversa. Il problema San Marco viene da lontano, dalla San Marco S.P.A. dove già c'erano tanti esuberi, passando per la ex San Marco Veicoli, gruppo Bluetech. Tutti conoscevano e conoscono il problema della San Marco. L'azienda San Marco Industrial ha deciso da gennaio di dare un cambio di passo a questo stabilimento, cambiando l'amministratore, cambiando il direttore di stabilimento per cercare di salvaguardare e tutelare e rilanciare soprattutto lo stabilimento. L'azienda dell'ultimo incontro ci ha dato dei numeri, ci ha detto che ci saranno anche altre commesse che l'ANAS e le poste. ci ha ribadito che purtroppo c'è un problema, un problema conosciuto a tutti. Per quanto ci riguarda, all'azienda abbiamo detto di portare il lavoro. Per uscire da questa situazione se ne esce solo ed esclusivamente con il lavoro.